buonasera buonasera benvenuto allora lei è il signor claudio ravera claudio ravera viene da torino il resto ecco adesso tra poco claudio ci proporrà qualcosa di particolarmente poetico ed è bello questo da parte di chi invece nella vita di tutti i giorni ha delle responsabilità importanti no certo certo io faccio questo più che altro per regalare un sorriso ma soprattutto un'emozione ecco allora è il momento di metterci in gioco mettersi in gioco con la poesia dei suoi palloncini claudio ravera prego grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bravissimo grazie a tutti grazie a tutti